Era un locale dove facevano, si giocava a tono. Allora andavamo lì e ognuno puntava e tentava di vincere qualcosa, no? Non mi ricordo chi era, chi era il delitatore di questa cosa, io ero dei ragazzini, potevo avere, non so, 8-10 anni, ma... Faccevano i giochi... Come quelli da adesso, come si chiamano? Quelli che c'erano le palle... Il bingo? Il bingo! Come il bingo! E' una cosa tipo bingo, si, però logicamente con le ridoste economiche dell'epoca erano proprio... Scarsissime, non scarsime. La maggior parte di questi qui, Partecipavano, magari nemmeno giocavano, che erano... Quanto giocavano, se ti ricordi? Quante lire? 5 lire, 10 lire massimo. Quelle lire, quelle io non ho... Io giocavo con mia nonna...